Tra i tanti pellegrini e malati che partecipano al pellegrinaggio diocesano di Lourdes, anche un utrito gruppo di giovani che ancora una volta hanno testimoniato la bellezza e la forza dell'esperienza del viaggio con i malati, così come ha ribadito ai microfoni di Lucio Fasoli Don Giampaolo Melchiori. Mi pare che siano veramente coinvolti e sorpresi, coinvolti perché hanno un cuore grande, si sono messi a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno, di pellegrini, degli ammalati, ai piani, con un cuore grande e poi li trovo veramente sorpresi, sorpresi dal fatto che nel momento in cui si sono messi e si mettono a disposizione incontrano qualcuno che si prende cura di loro ancora di più. In questi giorni stanno facendo l'esperienza che anche la malattia, anche la sofferenza sono parte integrante della vita, anzi sono dimensioni che aiutano davvero a maturare e a cogliere ciò che è veramente importante, ciò che rimane e non fermarsi solamente a ciò che luccica.